ciao a tutti ragazzi bentornati sul mio canale guardate oggi cosa ritorna sul mio canale dopo diverso tempo direi quasi un anno forse ritorna la moto di valentino finalmente abbiamo dal numero 12 al numero 18 e vi faccio vedere i fascicoli che poi l'opera è composto da 91 numeri scusate se non l'ho portata più ma avevo altro da fare e abbiamo recuperato un po di numeri e diciamo che sono fermato perché manca la chiave a brugola quando la troverò andremo avanti con il montaggio ok quindi adesso a breve sarà finita perché a giugno finirà io non vedo l'ora e in edicola l'ho finita la sto facendo in edicola e di fiducia comunque 5 euro la prima e 11 tutte le altre vedete e niente quindi qua si parla un po qua si parla un po della storia della moto di valentino come potete notare i due collettori di scarico di destra quindi abbiamo questa roba qua che dobbiamo unire questi due pezzi qua insieme praticamente facile facile e niente dobbiamo vitali con delle viti che ci danno in dotazione comunque sono le viti B basta questo è facile e nella prossima uscita abbiamo l'inserto in edicola tra sette zone che si era spaccato il pezzo ma vi dico dopo come ho risolto c'era una volta Donnyton Park questa parte qua veramente bella questa è la moto in prospettiva che andremo avanti con il montaggio io la modificherò perché non fa luzi non fa effetti sonori come avevo già detto in passato e gli metterò dei lad ovviamente questo è il numero 12 quindi andiamo al numero 13 che andiamo a vedere un attimo inizio del mito si parla e sta parte qua io non l'ho ancora letto cioè ho letto solo il numero 11 che è su scusate mi sono ho saltato un numero comunque è uguale fate conto che il montaggio è tutto uguale di due pezzi quindi scusate veramente non mi sono dimenticato il numero 11 che lo sto leggendo il terminale di scarico le sonde lamba e i tiranti bello mi piace vedete dobbiamo fare tanta lavorazione comunque è semplice perché dobbiamo mettere dei tiranti che ci danno in tutta azione queste parti qua e stessa cosa dall'altra parte vedete quindi dobbiamo fare la stessa operazione e facciamo anche dall'altra parte unendo il tutto e ottenendo e no ottenendo comunque questi due passettini qua nella prossima uscita abbiamo già una parte del motore fantastico e si che poi abbiamo diverse simulazioni e tutta la storia bene andiamo al numero 14 scusate se il video dura poco e vi ho già fatto vedere il montaggio ma non serve a far vedere il montaggio così non devo neanche fare off camera faccio vedere solo i fascicoli quel sorpasso impossibile così perdiamo meno tempo possibile e ci sta e niente il coperchio della testata ma prima di tutto dobbiamo unire questo pezzo qua il tubo di scarico e questo mi si era spaccato io l'ho incollato con la colla tenendolo con due tiranti quindi se si capite qua e b e poi uniamo tutti i passi e stessa cosa anche qua il tirante e questo è il risultato finale io lo spiego in sintesi e poi dovete vederlo voi però e dopo vi faccio vedere come ho fatto il montaggio questo è il numero e prossimo che è 14 dovrebbe essere vedete qua abbiamo il terminale il discarico della m1 e niente questa storia qua poi abbiamo numero 15 ho fatto fino al numero 18 quindi sono veramente tanti scusate il ritardo dice qua veramente adesso con il modellismo non ho più di tanto tempo quindi veramente mi sto documentando su altre cose come le live su tiktok e diverse cose mi raccomando seguitemi anche su tiktok sto facendo diverse live sto conoscendo veramente gente interessante anche lì il cruscotto e la strumentazione dove spiegherò anche dei modellini cioè nel senso faccio vedere anche i modellini nelle mie live di tiktok sto a 1131 follower comunque ho messo tutto il link in descrizione sempre nel mio canale se mi volete seguire vedete qua abbiamo la spia e la parte del motore e poi abbiamo nel prossimo inserto in edicola tra sette giorni il twin ring e poi si parla sempre della storia quindi non è che c'è più di tanto in questo sito di montaggio poi abbiamo il 16 pensavo di aver confuso i numeri invece no donington 1999 e poi parla sempre della storia della moto il supporto del cruscotto e ci sta benissimo vedete qua abbiamo diversi pezzi da incastrare insieme che dopo al limite vi faccio vedere comunque abbiamo messo anche questo pezzo qua e l'abbiamo avvitato con una vite e abbiamo messo questi due perni che uno dei due l'ho perso però non è niente di particolare poi abbiamo questa parte qua il radiatore del liquido refrigerante e com'è cambiata la posizione di guida bene spero che il video vi piaccia e poi niente adesso andiamo al numero 17 e ne manca solo uno dopo la vittoria numero 46 vi faccio vedere dopo i componenti che abbiamo assemblato bellissimo il radiatore del liquido refrigeratore e dobbiamo mettersi particolari qua vedete semplice semplice questi passaggi sono in plastiche passi e anche questo dettaglio qua quindi non è più di tanto ricca di dettagli ne ha veramente ben pochi seppang teom of motorshop si parla poi devo sistemare terminito che è successo dei danni però tranquilli cioè ritornerà anche quello quando recupero delle uscite qualcosina ho preso però non di tanto i simboli di valentino quindi abbiamo i simboli di valentino veramente interessanti anche nel casco e il radiatore dell'olio si parla quindi fantastico si va avanti e questo è il risultato finale cioè vi faccio vedere subito qual è il risultato finale del numero 18 vedete questo è il risultato finale fino adesso poi ho montato un altro pezzo che nel numero 19 però quello non ve lo faccio vedere perché dobbiamo scoprire nella prossima uscita perché devo finire quell'uscita lì quindi come funziona le q si parla e poi niente abbiamo sta storia qua bene ragazzi adesso vi faccio vedere i componenti qua si è staccato uno e l'ho perso uno purtroppo spero di trovarlo non sono più di tanto importanti sti cose qua se non è che siamo più di tanto ma secondo me sono le candele e quindi ci saranno delle candele ma anche se non mettete una non fa niente questo peso qua vi dicevo che l'ho incollato vedete questi sono i tiranti è tutto in metallo vi faccio sentire anche questa è la parte della marmitta praticamente tipo di scappamento poi abbiamo questo pezzo qua che abbiamo sembrato e questo qua che vi ho fatto vedere prima tutto il resto non conta perché ci hanno dato dei pezzi in più però non conta anche questa è in metallo faccio sentire e niente quindi il video finisce qua con questa bellissima immagina della moto di valentino io vi aspetto con il prossimo video che dovrebbe essere venerdì ma comunque vediamo non vi metto sempre l'anteprima per motivi che magari posso cambiare quindi mettete un fantastico mi piace commentate e iscrivetevi al canale mi raccomando io vi aspetto anche su tiktok mi raccomando iscrivetevi ciao ciao e commentate ciao al prossimo video buona visione